Nella puntata di, Pomeriggio 5, andata in onda ieri, venerdì 21 giugno, Alessandra Amoroso è stata protagonista di una gaffa in diretta mentre si trovava in collegamento con la conduttrice Simona Branchetti. Il tutto è partito da un piccolo equivoco che si è trasformato in un siparietto molto divertente. Simona Branchetti, conduttrice di Pomeriggio 5. Pomeriggio 5 News, il collegamento con il 105 Summer Festival. Come ogni giorno, anche ieri Simona Branchetti, nella seconda parte di, Pomeriggio 5 News, ha messo da parte i casi di cronaca per dedicarsi temi di attualità e di spettacolo. Durante la sezione si è voluto parlare di musica e, in particolare, del 105 Summer Festival. Un evento che consiste in quattro grandi appuntamenti di musica dal vivo con i protagonisti delle classifiche, rappresentativi dell'intera scena musicale italiana e internazionale. Tra questi c'è anche Alessandra Amoroso, ex allieva di, Amici di Maria De Filippi, e cantante di successo sul panorama italiano. Proprio lei, intervistata in collegamento da un'inviata di, Pomeriggio 5, è stata protagonista di una gaff nei confronti della conduttrice Simona Branchetti. La gaff in diretta di Amoroso. La conduttrice di, Pomeriggio 5 News, si è collegata con una sua inviata, che si trovava nel backstage del 105 Summer Festival insieme ai conduttori dell'evento, Maria Sole Poglio e Daniele Battaglia. Poco dopo è arrivata anche Alessandra Amoroso. In quel momento, la conduttrice dello show di Canale 5 Simona Branchetti, ha colto l'occasione di farle sapere di essere una vera fan della cantante. Così realizzate un mio sogno, perché io l'adoro, mi piace tanto, ve lo confesso. L'inviata di, Pomeriggio 5 News, si è avvicinata all'Amoroso e le ha detto. Tu sei il desiderio della nostra conduttrice, che ama le tue canzoni. Alessandra a quel punto ha reagito ai complimenti incappando in una clamorosa gaff. L'equivoco a, Pomeriggio 5, gaff di Alessandra Amoroso, dopo i complimenti riferiti dall'inviata di, Pomeriggio 5, Alessandra Amoroso, ha reagito abbracciandola lì presente conduttrice del 105 Summer Festival, Maria Sole Poglio, ringraziandola, oddio, ma grazie. Peccato che l'inviata intendesse portare gli omaggi della conduttrice Simona Branchetti, che ha assistito alla scena dallo studio. A quel punto l'inviata di, Pomeriggio 5, ha chiarito. Qui c'è stato un equivoco, Alessandra si è confusa con le conduttrici. Ha confuso la presentatrice di Pomeriggio 5 News con quella del 105 Summer Festival. Una gaff che ha divertito molto i presenti, e per la quale la cantante si è subito scusata. Scusami, non cambio mai come non cambiano le mie brutte figure, ha ironizzato Amoroso. La conduttrice ha replicato smorzando l'imbarazzo in modo professionale e caloroso. Ma no, stai tranquilla, sono quegli incidenti della diretta che capitano. Amo tutte le tue canzoni, in particolare l'ultima, che è stata anche la colonna sonora di Un Mio Viaggio. A quel punto, Alessandra Amoroso ha colto l'occasione per voluto rimediare alla sua gaff cantando qualche nota della sua canzone, fino a qui. Simona Branchetti ha apprezzato e ha chiuso il collegamento divertita, perdonata.